Questo video riguarda i migliori 3 auricolari Bluetooth. Il vincitore della qualità è Lord Top Cuffie Bluetooth. Cuffie Bluetooth sono dotate di un chip Bluetooth 5.3. Il raggio di trasmissione del Bluetooth può raggiungere i 15 metri di distanza. Il microfono ad alta definizione incorporato garantisce la qualità delle chiamate e una trasmissione stabile. Gli auricolari Bluetooth utilizzano driver avanzati rivestiti in titanio. Offrono un fantastico suono coinvolgente con bassi profondi, medi pastosi e alti nitidi. Cuffie wireless supportano la ricarica veloce USB-C. Vogliono solo una ore per caricare completamente la custodia di ricarica. Con un singolo auricolari del peso di 3.8G e custodia di ricarica che pesa 38,6G. Gli auricolari wireless offrono esperienze di utilizzo completamente nuove. Gli cuffie senza fili si adattano ancora meglio ai canali uditivi, sarà impossibile perderli o farli cadere quando si fa esercizio fisico. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Xiaomi Mi True. Redmi AirDots offre modalità stereo e mono. Sono dotate di un'unità dinamica da 7.2 mm e un sistema di riduzione del rumore intelligente per godere della qualità del suono Hi-Fi. Design leggero da 4.1G. Gli AirDots sono dotati di chip Bluetooth 5.0, per una velocità di trasferimento dati fino a due volte superiore rispetto alla generazione precedente e una connessione più rapida e stabile. Più fluido per l'ascolto di musica e giochi. Con gli auricolari Bluetooth di alta qualità con microfono incorporato, puoi facilmente effettuare chiamate telefoniche. Il segnale di qualità della chiamata è stabile. La tecnologia Bluetooth più avanzata sostituisce le tradizionali cuffie cablate. Offriamo tre auricolari in silicone di diverse dimensioni. Durata della batteria di 4 ore con una singola carica. Durata della batteria di 12 ore con custodia di ricarica. Cuffie con batteria da 40 ma. Custodia di ricarica con batteria da 300 ma. Il vincitore del premio è il Decima L Shower Cuffie Bluetooth. Le cuffie Bluetooth possono facilmente collegare il tuo dispositivo fornendo un'eccellente compatibilità e stabilità. Gli auricolari ti consentono di godere di una connessione stabile durante l'ascolti di musica e chiamate. Gli auricolari Bluetooth sono Y10D driver in film composito da 10 mm e codici SBC. Queste cuffie wireless hanno alti, medi e bassi bilanciati. Gli auricolari wireless cosentono un'esperienza audio immersiva. Questi auricolari wireless pesano solo 3.5G e danno un design ergonomico per un comfort che dura tutto il giorno. Gli auricolari da soli forniscono fino a 5 ore di riproduzione con una singola carica. La ricarica compatta dell'auricolare Bluetooth wireless può fornire 5 cariche aggiuntive, dandoti un tempo di riproduzione totale di 30 ore. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.